Abbiamo recentemente siglato un accordo con Grimaldi con l'obiettivo di incrementare il trasporto marittimo con una serie di vantaggi che sono essenzialmente legati al tema della sostenibilità e quindi stiamo cercando di togliere dalla strada sempre più merci e adesso praticamente il 50% di quello che noi muoviamo tra l'Italia e la Spagna viaggia su nave anziché su gomma, quindi con un vantaggio per l'ambiente cosa che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare a zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Ospite oggi di Interview, Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia il colosso internazionale della logistica con cui il gruppo Grimaldi ha dato il via ad una sinergia per il trasporto multimodale di merci tra Italia e Spagna una partnership che punta anche ad un'evoluzione dei processi di transizione tecnologica dove l'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più preponderante e investe tematiche quali la formazione e l'accesso alla professione. Notate carenza di figure professionali e in che modo appunto l'IA viene sfruttata da Amazon? Allora, l'intelligenza artificiale è sicuramente una rivoluzione, lo dicono tutti, ed è molto importante. Il modo in cui non la vediamo è come uno strumento che aiuterà il lavoro e lo renderà più sicuro e lo renderà più qualificato in futuro. Quello che sta succedendo, almeno nel nostro caso, è che stiamo facendo dei grossissimi investimenti ad esempio in robotica alimentata da intelligenza artificiale ma al tempo stesso questo sta migliorando le professionalità perché abbiamo bisogno di molti più ingegneri abbiamo bisogno di molti più esperti di sicurezza per esempio e siamo allo stesso modo aumentando molto il numero di posti di lavoro infatti stiamo arrivando ad avere 19.000 occupati in Italia entro il 2024. Quindi il tema delle competenze è veramente un tema fondamentale perché ovviamente è una rivoluzione che va molto veloce e quindi abbiamo bisogno di creare nuove competenze e anche qui c'è bisogno di lavorare insieme c'è bisogno di lavorare sicuramente con quelli che sono i canali di formazione classica quindi istituti tecnici, le università ma quello che Amazon sta facendo è investire molto nel reskilling della propria forza lavoro quindi noi stessi stiamo cercando di creare le competenze che ci servono cercando di appunto formare i nostri dipendenti in modo che continuino a essere parte della nostra forza lavoro. Questa è l'interessante analisi di Mariangela Marseglia country manager di Amazon Italia appuntamento a domani per una nuova intervio al personaggio del giorno.